direttamente dall'agriturismo Valle dei Margi vi presentiamo noi di Sei Live la sfilata di moda, moda e benessere, un defilè in cui andremo a conoscere le nuove proposte primavera e estate proposte dal negozio Mito e Target che si trova in via Raffaele Failla, 38 a Gran Michele, un connubio molto interessante quello che si sta venendo a creare proprio stasera, l'agriturismo Valle dei Margi che è anche un centro benessere accoglie la moda, quindi una bellezza interna, interiore grazie al centro benessere e poi la moda estetica, la moda degli abiti che sfileranno fra poco proprio su questa passerella, Sei Live, la moda è anche sul web grazie a tutti per 20-12 rai. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti